About Blue è un marchio di proprietà della ditta Panther, SRL, che è a Bovolenta, provincia di Padova ovviamente. Nasce nell'82, per cui parecchi anni fa, per mano di tre soci, uno dei quali era Rocco Cilenti, padre di un socio attuale. Nasce nell'82 come un'azienda di produzione di scarpe, dove produceva scarpe fondamentalmente per scarpe da ginnastica e scarpe di vario tipo. Dopodiché negli anni 90 ha avuto una trasformazione molto importante, visto che comunque la maggior parte delle aziende sportive si sono mosse, sono andate a delocalizzare in Asia le produzioni e in quel momento là, a fine anni 90, primi anni 2000, la proprietà ha deciso di trasformare l'azienda e di cominciare a produrre scarpe di sicurezza. Scarpe di sicurezza prodotte per i più grossi distributori europei, parliamo nel 2003-2004, è uno dei più grandi produttori italiani di scarpe di sicurezza, non a marchio proprio, ma a marchio dei vari clienti. Negli anni 2005-2006 poi è nato il marchio About Blue, da questa volontà di Panther di creare un marchio suo e di cominciare a commercializzare le sue scarpe. Nel 2009-2010 ha avuto qualche traversia con il proprietario di allora che comunque era, faceva parte della famiglia, ora con una compagine, società è suddivisa in tre soci, dove un socio è Giovanni Cilenti e l'altro è il signor Luigi Rossi Luciani, noto imprenditore della zona, hanno insieme con me, che io sono direttore generale, abbiamo fatto ripartire l'azienda e di fatto dal 2010, che facevano circa 3 milioni e mezzo di fatturato, siamo arrivati l'anno scorso a farne 16-8, quest'anno ne faremo, il target è di fare almeno 19 milioni di euro di fatturato. Questo determinato fondamentalmente da un mercato estero molto forte, che conta circa 85% del nostro del nostro business e il 15% restante in Italia. Noi facciamo scarpe di sicurezza, abbiamo una nostra fabbrica, due fabbriche anzi, perché ne abbiamo aperta una nuova, in Albania, dove facciamo tutta quanto la parte sopra della scarpa che si chiama Tomaya e qua a Padova, fresca fresca di questo gennaio, abbiamo comprato un'altra macchina nuova per l'iniezione, per cui è un macchinario molto importante e molto costoso, fra le altre cose, che inietta direttamente sulla parte sopra della scarpa Tomaya la suola. Siamo produttori al 100% perché tutte le scarpe che produciamo sono prodotte all'interno dei nostri stabilimenti. Non facciamo come tanta altra gente o tante altre marchi, anche più blasonati di noi, anche in altri settori, tipo la moda, tipo lo sport, che sono solo dei commercianti, noi facciamo le scarpe da zero. Abbiamo il nostro centro ricerca e sviluppo interno, abbiamo il nostro stile e prodotto, abbiamo una flotta di commerciali che sono sempre fuori in prima linea in tutta Europa e anche nel mondo, perché noi distribuiamo in circa 40 paesi nel mondo, dove siamo anche decisamente forti in alcuni paesi insospettabili, come potrebbero essere l'Isla e Mauritius, il Canada e anche in Asia stanno vendendo. Nonostante l'Asia sia un punto produttivo molto importante, noi riusciamo a vendere le nostre scarpe di alto livello in quelle zone là. Il target per i prossimi anni è di arrivare a circa 25 milioni di euro nei prossimi due anni e ingrandire anche la nostra capacità produttiva, perché noi comunque abbiamo anche qua acquistato dei terreni per costruire nel prossimo futuro un capannone nuovo per un magazzino semiautomatizzato. La volontà è quella di acquistare un'altra macchina, di queste che fanno l'iniezione di elettro sulle scarpe, per ovviamente aumentare la produzione e i nostri fatturati. La collaborazione con Pallavolo Pallo è iniziata più di tre anni fa, nasce dalla nostra necessità di essere più conosciuti e più visibili localmente, ma fondamentalmente è nata grazie alla nostra amicizia e conoscenza di Mauro Bergamaschi di BAP. Penso che sia uno dei soci fondatori della nuova gestione della Pallavolo Padova che ha fatto sì riuscire a mettere insieme Pallavolo Padova e About Blue nella necessità appunto di esplorare e di ampliare il mercato locale. Questa collaborazione qua nasce ovviamente grazie a Mauro che si è fatto lui portavoce dei benefici che poteva avere questa collaborazione e ovviamente siamo grati a questo perché comunque i dati sono visibili e tangibili di questa nuova impostazione che è stata data anche la collaborazione squadra, sponsor e sostenitori che sta funzionando veramente molto molto bene. Innanzitutto un orgoglio per la strada percorsa è fatta perché se guardiamo 15 anni fa dove eravamo e adesso essere sulla maglia di una squadra di Pallavolo e con i campionati nazionali e con le tournee anche internazionali che sta facendo ovviamente ci riempie d'orgoglio e ci fa veramente, è uno stimolo per andare avanti e per creare ovviamente altre cose nuove e collaborazione magari anche più importanti sempre con la Pallavolo Padova nei prossimi anni e sicuramente questo ha dato anche un feedback e un riscontro sul mercato locale molto importante perché ovviamente la Pallavolo è molto seguita. Pallavolo Padova nella zona ovviamente è importantissima e abbiamo riscontrato anche nel momento in cui andavamo a approcciare anche clienti nuovi nel Triveneto e ovviamente anche noi facevamo presente il fatto che siamo sponsor della Pallavolo Padova e c'era un, diciamo così, è aumentato un po' la conoscenza del marchio, il brand awareness come si dice nel marketing e ha contribuito parecchio a farci conoscere in zona perché tante aziende anche gli stessi altri partner di Pallavolo Padova ignoravano che ci fossero delle aziende come la nostra che producono scarpe e che fra altre cose con l'aiuto da Pallavolo Padova ci ha messo in contatto per fare anche del business diretto per cui oltre al fatto di avere l'orgoglio e di provare l'orgoglio di essere sulle maglie della Pallavolo Padova questo ha generato con un sistema nuovo anche, diciamo così, commerciale di barra marketing legata alla Pallavolo che funziona da perno ci ha aiutato anche a cominciare a fare del business abbastanza importante anche in zona, cosa che prima non riuscivamo a fare. La visione futura di About Blue è quella di crescere e diventare in Italia se non altro uno dei primi cinque marchi di produttori di calzatori di sicurezza, questa è la nostra mission e stiamo lavorando per ottenerlo e a piccoli passi perché comunque il mercato sia il mercato del lavoro sia italiano che estero non è che sia così vigoroso in questo momento diciamo però che stiamo a ottenendo e aumentando il nostro parco clienti anche nel Triveneto grazie alla collaborazione con Pallavolo Padova. In Italia stiamo crescendo parecchio e all'estero stiamo approcciando nuovi paesi con delle forze nuove leve che abbiamo appena appena assunto in azienda per ampliare un po' il nostro nostro parco clienti. Per la Pallavolo Padova io mi auguro vivamente che continui a fare quello che sta facendo adesso perché comunque è una cosa molto importante non solo a livello di classifica ma anche quello che percepiamo noi essendo anche noi padovani anche sul sociale e sul settore giovanile, cosa che tante squadre nella Pallavolo non curano come è curata dalla Pallavolo Padova e ci auguriamo di avere la collaborazione nei prossimi anni e stiamo provando adesso ovviamente in funzione anche della crescita dell'azienda di vorremmo fare dei passi in avanti per essere sempre più presenti sia a livello di palazzetto di promozione anche su in in loco ma anche sulla maglia per il mio sogno sarebbe diventare diventare sponsor e far diventare la Pallavolo Padova e About Blue Padova come abbiamo siccome anche nell'ambito della Pallavolo ci sono dei nostri competitor che sono main sponsor ci piacerebbe anche noi anche a me in particolar modo riuscire a quello il target nei prossimi due o tre anni sempre se ci ci sarà la possibilità insomma